74 milioni di euro complessivamente in arrivo per l'ASL di Chieti, dei quali 14 milioni di euro per il potenziamento tecnologico, 14 in arrivo per le grandi attrezzature e 49 milioni per l'edilizia sanitaria, ristrutturazioni del corpo Pide e dell'ospedale Santissima Annunziata e l'ammodernamento. Questi ultimi arriveranno con il bilancio di previsione dello Stato, ma occorre che la sanità presenti progetti globali, definitivi e funzionali per avere l'autorizzazione dal Ministero. Si attende infatti dall'ASL di Chieti un progetto globale con un nuovo computometrico che dia indicatori di spesa e indicatori di funzionalità organizzativi. Sappiamo che il Piano Nazionale di Resilienza, che è un piano europeo, ci affida delle risorse che non sono solo per il territorio ma anche per gli ospedali, pensiamo alle grandi apparecchiature e alla messa in sicurezza e questi finanziamenti si andranno ad aggiungere a un precedente stanziamento che la Regione aveva previsto per la ristrutturazione funzionale dell'ospedale di Chieti dopo che avevamo praticamente così riconosciuto non più valido il project financing e non sostenibile il project financing della precedente. È importante presentare i progetti da parte dell'ASL? Sì, è fondamentale perché il precedente progetto che non è stato ritenuto funzionale anche alla luce dell'emergenza Covid deve essere sostituito da un progetto che sia più dinamico, più funzionale, che tenga conto dei nuovi percorsi assistenziali, anche dei ruoli che giocheranno gli altri presidi che andranno in ristrutturazione. Quindi è un momento molto importante perché qui non dobbiamo pensare solo ai finanziamenti, dobbiamo pensare a rendere in modo definitivo funzionale e fruibile questo policlinico. Sarà realizzato un nuovo corpo del policlinico ed è uno dei primi interventi che sarà approvato e la possibilità anche di avere il parcheggio, la possibilità di avere una sede definita per la radioterapia. Ho proprio chiesto al direttore Scelle di fare un cronoprogramma di quelle che sono le richieste non solo delle grandi apparecchiature così come abbiamo dato con PNR ma in modo particolare anche delle piccole apparecchiature perché a volte si ha bisogno di questa piccola strumentazione che poi interrompe quello che è un percorso, quella che è una fluidità di un servizio sanitario.